ciao a tutti eccoci in questo nuovo e primo video di clash royale come vedete non si vede però sono con il nuovo telefono perché da qui si può installare mobizen e quindi posso registrare siamo qui sul mio profilo da cui avevo anche iniziato a registrare credo sì sono in arena 8 mi mancano pochi trofei per arrivare in arena leggendaria nonostante questo gioco da troppo tempo sto maxando molto il deck solo che mi manca ancora tanto e quindi il mio deck principe cucciolo di drago da di scheletri barile goblin sfera domatore mini pecca e barbari ora principe livello 3 cucciolo di drago livello 3 ordini scheletri livello 3 barile come livello 3 sfera livello 7 domatore livello 6 livello 7 barbari livello 9 come vedete mi manca poco per far diventare il domatore livello 7 poco per far arrivare il livello 10 barbari mentre questa tutte le altre carte ce l'ho tutte tranne naturalmente queste leggendarie per me ne so però subito una infatti sto conservando i soldi appena arrivò in arena leggendaria e quindi questo è il mio clan a comandare se volete entrateci ci sono cinque posti per ora può essere che creerò anche un mio cane e poi l'ultima novità sono questi tornei in cui è difficilissimo entrare forse farò anche un torneo e quindi possiamo procedere un paolo aprire una corona forse troveremo qualcosa che è una cosa difficile ok 8 barbari non perdono 13 giganti di barbara 37 mortali ok sei domatori vanno qua ne ho trovato sia i barbari che domatori che sono carte che ci servono ok questo non so se faremo una battaglia sì ok farò una battaglia oppure possiamo anche aspettare un attimo questo no va bene la faccio speriamo di vincere ci sono trofei importanti ok ma per serio no va bene speriamo che non gioca anche se è difficile trovare un po' di danno però abbiamo iniziato a fare un po' di danno mettiamo il principe qua dietro aiuto ah purtroppo buongiorno poi mettiamo il foglio di schemi di sgherri mettiamo tutto la sfuma non la messo nemmeno bene sfettiamo un poco e poi mettiamo il tomaturi mettiamo il tomaturi mettiamo le barbari le piamme nemmeno un pulpo e che cavolo quanta roba abbiamo fermato tutto ci siamo ripresi bene però abbiamo fatto pochi danni non va bene andiamo con una tecnica facciamo un lavoro non l'abbiamo fatto non l'abbiamo fatto non l'abbiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Speriamo di vincere e al 2765 troverà Filsano. Non mette niente come sempre. Ecco che mette lo schifo. Andiamo potenti di principe. Ma non è normale che mi contrasta con un principe, il principe. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.